numero 5 a prima vista l'estetica di questa gabbia non ci lascia indifferenti siamo rapidamente catturati dalla bellezza della struttura l'insieme è fatto di legno il che assicura la sua robustezza solo la parte anteriore è in plexiglass questo vi permette di vedere le azioni del vostro criceto dall'esterno il modello è dotato di un buon numero di accessori che permettono all'animale di sviluppare o mantenere le sue capacità motorie la sua intelligenza e soprattutto di spendere la sua energia quotidianamente la gabbia è distribuita su tre piani il tutto è collegato con delle rampe al livello più alto della torre c'è il rifugio e i due livelli inferiori promettono più spazio dove poter aggiungere altri giochi trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 questo modello promette un luogo piacevole e spazioso in cui vivere a due piani su cui il vostro animale domestico può muoversi e giocare liberamente questo esemplare lascia alla sua portata un ponte di legno e una scala una casetta serve da rifugio e le due mangiatoie possono ospitare i suoi pasti e l'acqua la struttura è in metallo solo i dettagli interni sono in legno le dimensioni lasciano molto spazio per il vostro animale il tutto è 100 per 53 per 55 centimetri di superficie dove il vostro amico potrà dedicarsi ai giochi e ai divertimenti il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 3 non è una semplice gabbia dall'aspetto tradizionale l'habitat è più moderno e più elaborato il suo design riflette innovazione e progressi tecnici è dotato di tubi varie connessioni e diversi scomparti per intrattenere e distrarre il nostro animale domestico ci ritroviamo anche con un abbeveratoio che funziona con un sistema a goccia una ciotola per il cibo un nascondiglio e diversi gomiti uniti a tubi per collegare l'intera struttura in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 2 la struttura è fatta di legno questo gli conferisce un'estetica lussuosa e un bel design inoltre può essere facilmente abbinato a qualsiasi arredamento e stanza della casa questo accessorio fornisce un luogo di relax divertimento e uno spazio di vita adatto ai nostri piccoli animali la base della struttura è completamente rimovibile questo rende facile per il proprietario mantenere la conigliera pulita se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 è dotato di un sistema di ventilazione ottimale dato che la struttura è aperta beneficia di una migliore circolazione dell'aria oltre a questi dettagli sono disponibili diversi accessori per intrattenere occupare e mantenere il fisico e l'intelligenza dell'animale la porta di plastica arrotondata sul lato del telaio fornisce un'apertura spaziosa è facile da aprire se avete bisogno di rimuovere il vostro criceto dalla gabbia l'articolo è ben accessoriato a tutte le attrezzature necessarie per la palestra e per il divertimento del piccolo animale domestico trovi il link di questo articolo in descrizione